Qualche giorno in più rispetto al resto d'Italia per sistemare gli ultimi dettagli sulle distanze e il nuovo posizionamento dei tavoli, ma intanto si riparte. Anche in Campania la ristorazione prova a tornare alla normalità anche se i numeri sono da brivido. Perdite stimate dal 30 al 60% dei coperti all'interno, che significa meno incassi, ed anche limiti orari di esercizio. Non mancano le incognite nella fase 2 che oggi finalmente inizia anche per pub, ristoranti e pizzerie. Limitazioni che si ripercuotono anche sull'aspetto occupazionale con 8000 lavoratori, secondo le stime, che resteranno a casa. Un percorso ad ostacoli tra luci ed ombre, anche se si prova a respirare aria di normalità. Come al Caffè Gambrinus di Napoli, luogo simbolo della città di questa fase 2. Saracinesche alzate alle 9, un applauso per accompagnare il nuovo inizio e primo caffè per tutti. Nel bar storico della città, come altrove, ci si è adeguati con tavoli distanziati, mascherini e attenzione ad evitare assembramenti al banco. Brindisi con un caffè per i dipendenti, mentre il primo cliente è stata una romana che lavora in città. Non solo Napoli, anche Salerno spera di far ripartire gli affari dopo il lungo stop con i ristoratori che si sono attrezzati. Oggi c'è la ripartenza e speriamo che la gente non abbia paura di accedere ai locali, perché abbiamo sanificato, abbiamo rispettato tutte le norme, addirittura abbiamo smontato tutti i dehors per far sì che la reazione del locale sia bella ampia, aperta e possono sedersi tranquillamente col metro di distanza e stare sereni ed assaggiare e degustare sempre le nostre prelibatezze, le nostre specialità. C'è stata una violenza psicologica con le persone, c'è stata, perché la gente ha voglia di uscire, parliamoci chiaro. Siamo fiduciosi per iniziare alla grande. Siamo fiduciosi per iniziare alla grande.